buongiorno a tutti buongiorno prima di tutto grazie grazie di essere qui con noi oggi di regalarci un'altra emozione di vivere con noi la nostra festa e le nostre emozioni grazie le presentazioni sono sempre imbarazzanti perché senti una lista di cose che non ti ricordi neanche di aver fatto tutte e sembrano tutte delle cose eccezionali a volte sono soltanto frutto di lavoro di fatica però sono io che voglio ringraziare te Ilaria perché dopo la pandemia io sto trovando in giro tante facce serie tante facce abbattute anche un po incazzate stamattina arrivando qui ho visto delle facce sorridenti delle persone che hanno voglia di ripartire che stanno ripartendo che sono già ripartite quindi questo è una cosa che fa bene e quindi ti voglio ringraziare io per avermi fatto conoscere questa bella gente e mi prenoto per l'anno prossimo per venirvi ad ascoltare soltanto perché è interessantissimo quello che ho sentito lui mi ha fatto morire luciano canova è fortissimo ma anche il nostro esperto di lingua sanscrita cioè sono tutte cose bellissime quelle che sto sentendo sarebbe bello fondere la vostra esperienza la vostra conoscenza nella comunicazione con chi fa il nostro mestiere perché noi molto spesso lavoriamo a come ci viene grazie a dio ci viene bene ogni tanto ma non è sempre così per cui riuscire a incastrare la vostra esperienza il vostro modo di connettersi con le voglie della gente e la nostra maniera di fare musica di creare emozioni potrebbe portare dei grandi risultati ci pensiamo ci lavoriamo grazie e tu di lavori ne fai tanti non stai mai fermo e questa volta te ne sei studiato un'altra vediamo di cosa si tratta a casa nuova sì 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 vediamo è un grande giorno per questa città è ritornato fra noi già con noi già con noi un grande giorno per questa città è ritornato fra noi già con noi Venezia, amore! Appunto, Venezia, amore, l'emozione più grande forse. Ma ci vuoi raccontare come è nata questa idea, questo processo creativo? Raccontaci un po' come è la genesi di questa grande emozione. Allora, le emozioni sono... l'emozione è la mamma di ogni ispirazione. L'ispirazione poi è quella che produce ogni opera dell'uomo. Io parlo delle opere artistiche, però insomma se non hai l'ispirazione non succede niente, oppure succedono delle cose di mestiere, quelle che non hanno anima. La mia storia, il mio amore nei confronti di Venezia parte da lontano. Avevo tre anni, quattro forse, e mi portarono qui a Venezia a vedere una zia, la sorella di mio nonno, che era piccolina così, la zia Giovanna, che era la damma di compagnia di una nobile veneziana e addirittura mi raccontava che aveva servito il tè alla futura regina d'Inghilterra che era venuta in visita da questi signori veneziani. Io mi ricordo questa casa che assomigliava a queste cose, quella stanza meravigliosa dove c'erano affreschi, mobili incredibili, quadri. Però quello che mi era rimasto dentro era lo sciabordio dell'acqua sotto questo pontile, che era una cosa tipo questa dove ci aspettavamo una barca che ci riportò in terraferma. E quel pensiero mi è rimasto dentro sempre, cioè io quando penso a Venezia vado ancora lì a pensare a quei momenti che sono quelle cose che poi ti rimangono dentro e in qualche maniera ti segnano. Avevo voglia, quando ci siamo fermati nel 2016 con i Poo, di scrivere qualcosa su Venezia perché è l'unica città al mondo, tra quelle incredibili, che non aveva un suo musical. E dico, Cristo, Venezia deve avere un suo musical. E insomma mi sono messo a pensare a questa cosa, a un atto d'amore, ecco parlando dell'amore, un atto d'amore nei confronti di Venezia. E poi ho cercato di trovare chi la rappresentasse questa storia, che è un personaggio iconico e mi ha aiutato il libro di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti, che è un romanzo. Ed è stato importante perché la storia normale di Casanova non mi portava a scrivere tutto quello che invece ho scritto leggendo il romanzo, perché nel romanzo lui ha aggiunto quello che nella storia non è stato raccontato e forse non è successo, ma potrebbe anche essere successo. Per cui in questo dubbio ci sono mille situazioni. C'è l'amicizia, l'amore, la passione, il sesso, l'arresto, l'intrigo politico, la fuga dalla prigione, l'amicizia. Cioè tutti i sentimenti molto molto importanti che aiutano a scrivere della musica. E così è nata. È nato Casanova. La critica l'ha chiamato un colossal, è stata sicuramente un'impresa coraggiosa che abbiamo condiviso io e mia moglie, nel senso che mia moglie ha detto è come il nostro terzo figlio questo lavoro che è nato, un terzo figlio che non abbiamo avuto, ne abbiamo due. E quindi ha detto è giusto accompagnarlo finché cresce. E quindi abbiamo deciso di produrlo noi con un grande impegno e un grande sforzo. Però quello che poi la gente ci ha restituito è stata una cosa talmente bella perché è diventato sold out dappertutto e ripartiremo l'anno prossimo dai grandi teatri ancora una volta e forse ci muoveremo. Adesso stiamo lavorando per portarlo all'estero. Ma al di là di questo, insomma, la soddisfazione di aver dato forma ha un'emozione che è diventata ispirazione e che è diventata anche sogno. Come dico sempre, io mi considero più un artigiano, nel senso che devo dare concretezza alle mie voglie, ai miei sogni, alle mie ispirazioni. Allora, come se avessi un pennarello di quelli con la punta grossa, cerco di delimitarne i margini del mio sogno per cercare di capire poi come strutturarlo, come muoverlo, come mettergli le gambe, perché i sogni sono belli quando non rimangono utopie, quando possono poi camminare e diventare qualcosa. E allora ho lavorato così, ho lavorato pensando a dare forma a questo sogno. E allora Venezia è talmente incredibile che non la puoi raccontare soltanto con la musica o con delle belle tende che scendono o delle belle luci. Devi vederla, Venezia. E allora... Infatti avete fatto un lavoro di regia e di ricostruzione della scenografia proprio pensando a questo, per dare questa emozione, non di vedere Venezia, ma di viverla. Sei mesi sulle musiche e un anno sulle immagini di realtà aumentata che ho realizzato. Approfittando di mia moglie, che poverina io la coinvolgo sempre, gli ho detto amore andiamo a Venezia che è il nostro anniversario di matrimonio. In realtà dovevamo filmare le gondole che si vedono all'inizio e alle 5 del mattino del 9 luglio del 2020, che era l'anniversario del nostro matrimonio, noi eravamo alle 5 del mattino in Piazza San Marco, con i venti, tutti i gondolieri che mi hanno preparato le gondole come erano una volta, a filmare le gondole. Per cui condividi, no ma adesso scherzo, è la donna più straordinaria che potevo trovare. Però era un periodo particolare. In pieno Covid, siamo venuti qui a Venezia a filmare queste cose meravigliose. Piazza San Marco non aveva neanche i piccioni, non c'era nessuno. Era bellissimo e inquietante, però a me serviva pulita così. E poi ho lavorato a togliere tutti i fili elettrici, le antenne paraboliche, gli insegni pubblicitari, per rendere ogni fotografia come era, riportarla a quello che le case erano nel 700. Poi ho aggiunto cieli, ho aggiunto canali puliti, insomma è diventata una costruzione. Però in questa maniera, quello che ha colpito lo spettatore è che veniva a vedere questo spettacolo e dopo un quarto d'ora era a Venezia. Si dimenticava il teatro, dimenticava le pareti del teatro, i fondali, il palcoscenico e si sentiva all'interno di Venezia. Voi avete visto poche immagini, però insomma se avete fissato qualcosa c'era Palazzo Bovolo, c'erano le piazze, c'erano le situazioni che chiaramente sono tutte costruite con questo lavoro di realtà immersiva che ti portava dentro a una Venezia che non c'è più ma che è quella raccontata, quella del 1755. Ci hai fatto fare un salto nella storia e adesso facciamo un attimo un salto indietro. Beatrice, la tua santipe che sempre ti stava, che sta vicino, in un'intervista ha detto che tu dovevi fare esplodere queste emozioni mentre stavi scrivendo, che le avevi dentro ed erano come compresse e poi hai dovuto liberarle. Ci racconti? Ma a me succede una cosa strana, che quando riascolto quello che ho fatto dopo un po' di tempo dico ma l'ho fatto io? Ma non perché sia bello o brutto, perché mi domando da dove è arrivata quella cosa. E mi rendo conto che chi ha detto che quando uno riesce a fare una canzone, a scrivere una musica, c'è Dio che da lassù gli ha sorriso, comincio a crederci perché non mi riconosco in quello che ha fatto certe cose, ma ripeto non per la qualità, la bellezza o altro, proprio perché dico ma come mi è venuta in mente quella cosa? E questa è l'ispirazione, questa è proprio l'ispirazione che da sola, mia moglie diceva giusto, io avevo bisogno, io andavo a casa, abbiamo lo studio a casa, mi mettevo in studio e avevo bisogno che uscissero queste cose e lei mi vedeva tornare felice a pranzo, sedermi a tavola e raccontare quello che stava nascendo e questa è la cosa più magica del nostro mestiere perché riuscire a trasformare un pensiero, un sogno in qualcosa, qualcosa ok, ancora di impalpabile perché la musica di che cosa è fatta? Non lo so, di nulla, non è una scultura, un quadro che puoi toccarlo o vederlo, è comunque materico, la musica, sì, la mettiamo in qualche supporto noi in un CD o in un vinile, però la musica è qualcosa che è lì e quindi riuscire a trasformare il tuo pensiero, la tua voglia in qualcosa che poi arriverà alla gente è bellissimo. Allora vi racconto una storia, nel 2000 noi ci siamo sposati, nel 92 lei è venuta a vivere con me, eravamo entrambi sposati con altre persone e quindi siamo al secondo turno e sta andando molto bene. Ho scritto una canzone nel 92 che è Stare senza di te, che dice gli amici adesso avranno tante cose da parlare e poi ci riempiranno di consigli e di rimproveri perché adesso sto con te, perché raccontavo la storia di due, che avevano due storie, due famiglie che si separavano dalle storie precedenti per amore e quindi è una storia assolutamente nostra, la fotografia di quello che succede e anche degli amici che perdi quando fai queste scelte. Allora lei viene a vivere con me e un giorno viene a casa a fare la spesa e mi dice, ma sai che ho sentito la nostra canzone al supermercato? E io, ho scattato subito il meccanismo, il cantante si ha, va bene? E io dico, bene, ma come bene? La nostra storia in mezzo ai prosciutti e al formaggio? Lei era disperata. Gli ho detto, amore, ti spiego, quando tu senti queste cose vuol dire che va tutto bene. Insomma così. Era per citare... Per citare poi quanto sia bello invece appunto che quello che tu scrivi, l'emozione che tu vivi, soprattutto quando parli delle tue storie, diventino di tutti. Infatti poi allo stadio, prima la ragazza che mi ha presentato parlava degli stadio e dei concerti, quando lei ha sentito cantare da tutto il pubblico la canzone che avevo dedicato a lei allo stadio, allora ha capito che era bello anche condividerla, un'emozione così personale. In effetti, ne hai condivise veramente tantissime. E anzi, visto che sei qui e sei sempre disponibile ai nostri confronti, se c'è qualcuno che ha piacere di chiedergli qualcosa, preparatevi qualche domanda e poi Red vi risponde. Io però ho una curiosità, sai che io sono curiosa come una scimietta, ma in tutto Casanova c'è un pezzo che ti è particolarmente caro, il cosiddetto pezzo del cuore, quello che metteresti nella cornice col cuore? Allora, sono tre i pezzi che... Il primo è quello dei gondolieri, che è un'oda a Venezia. Il secondo è il tema di Casanova, che è un tema particolare. E l'altro è il tema di Francesca, che è la ragazza di cui fa innamorare Casanova, una 19enne figlia di un nobile veneziano, che sapendo che Casanova era comunque un libertino impenitente fino a quando non ha incontrato lei, si combatte tra il suo voglio e non voglio, e quindi è il suo conflitto interno. Ecco, questi sono tre brani che identificano il lavoro. Poi c'è l'inquisitore che ha dei brani molto cattivi perché è un personaggio... C'è la contessa von Steinberg che ha i brani di Perfidia perché lei trama le spalle di Venezia e intorta anche l'inquisitore promettendogli di farlo diventare doge. Insomma, ci sono tutti i risvolti dell'animo umano là dentro e quindi si può riconoscere qualsiasi momento storico perché, ahimè, l'uomo cambia, le tecnologie ci fanno crescere, l'intelligenza artificiale chissà dove ci porterà, ma l'uomo sostanzialmente dentro non cambia ed è sempre quello. Quindi le sue voglie, le sue passioni, le sue paure, le sue ansie rimarranno sempre quelle. Grazie mille. C'è qualcuno che vuole intervenire? Aspetta che passiamo il microfono. A proposito di emozioni, le tre canzoni dei Poo che ti emozionano ancora? Quelle che senti battere il cuore quando le canti? Allora, di sicuro in testa c'è Uomini Soli perché è una fotografia perfetta di quello che l'uomo ha costruito intorno a sé. Quindi questa forma di solitudine nel concetto invece di essere in mezzo a tutti e forse anche felice. Credo che Valerio Negrini, che purtroppo dieci anni fa ci ha lasciato, sia stato veramente un grande poeta e un grande comunicatore. lui avrebbe potuto benissimo lavorare in un'agenzia pubblicitaria perché ha trovato degli slogan, prima quello citato, chi fermerà la musica è uno slogan che ha funzionato, ma anche questo dio delle città e delle immensità c'è come gli è venuto in mente, non lo so, però è fantastico. Per cui quella è la prima. Seconda, direi la canzone che ho scritto per mia moglie, Stare senza di te, e poi il primo brano, il primo brano importante che ho inciso nel 73, quindi 50 anni fa, quando sono entrato nei Poo, che è una suite di dieci minuti che si intitola Parsifal. Ecco, quando suono quella mi rendo conto che abbiamo fatto anche delle cose importanti. Buongiorno, buongiorno, sono Monica. La mia domanda è piuttosto stravagante, nel senso che io a 58 anni ho iniziato da poco a studiare il pianoforte. Quindi la domanda è, secondo lei, alla mia età, ha senso? Mi può dare un consiglio? Grazie. E io credo che la bellezza della vita sia proprio quella che ci dà la possibilità di imparare fino all'ultimo giorno della nostra vita. E c'è sempre spazio per imparare. La RAM non è mai piena del tutto per la conoscenza. Io trovo meraviglioso che tu abbia voglia, alla tua età, che poi voglio dire, se ti senti vecchia tu io dovrei spararmi, che alla tua età tu abbia voglia di imparare a suonare il pianoforte. È bellissimo. Non sento? Ma sai quanta gente c'è che suona il pianoforte? Immagino. Infatti ci ho pensato a questo. Grazie, grazie mille. Eccolo. Sì, una... Visto che ci sono tanti ragazzi qui oggi, no? Secondo te, quale coraggio ci vuole nel valore di una scelta? Che può essere il tuo musical, che può essere un tuo testo, o quello che credi? Non devi mai porti il problema di come andrà, perché tutte le grandi cose, secondo me, le grandi innovazioni, sono nate fuori dal mercato e dalla politica. Anzi, molto spesso sono nate quando andavano controcorrente. Io credo che i Poo siano sempre stati fuori moda, perché quando andavano certe cose noi ne facevamo altre. Per cui io credo che un ragazzo che vuole iniziare qualsiasi carriera deve crederci, deve essere pronto a fare dei sacrifici. Deve essere quello che lui cerca, deve essere quello che lui vuole, perché è inutile fare un mestiere che ti pesa. Dal mattino ti devi svegliare con la voglia di iniziare, non il tuo lavoro, la tua missione, la cosa che tu ami, la cosa che tu vuoi fare, che hai sempre sognato di fare. Allora non ti peserà mai e riuscirai a superare anche i momenti di debacle che devi mettere in preventivo, ci saranno in ogni mestiere. Però l'importante è rialzarsi, perché perdere ogni tanto, cadere per terra è normale. L'importante è riuscire a tirarsi su. Mio papà ha fatto il pugile, era molto povero ma mi ha insegnato tante cose. Ha fatto il minatore a Marsinella, ha fatto il camionista per 40 anni e ha tirato anche di box. E lui mi diceva sempre, sono casca parterra tante volte, ma mi sono sempre tirassù. Cioè questo era stato il suo insegnamento. E allora questo consiglio ai ragazzi, tenete duro, tenete duro se ci credete. Abbiamo visto che adesso ritornate, sono qua. State ritornando come può per una serie di concerti. Una domanda da musicista. Ritornare a suonare come band è per una richiesta dei fan o perché, come credo, quando si suona, quando si comunica con la musica, non si può fare a meno di stare su un palco e di suonare? Noi ci eravamo fermati nel 2016 e doveva finire così. Poi, casualmente, hanno fatto questo docufilm sulla nostra storia, la RAI, e ci ha chiesto di andarlo a presentare a Sanremo. Quando Amadeus ha saputo che noi andavamo a Sanremo a presentare il nostro docufilm, ha detto, no, se i puoi vengono sul palco di Sanremo, un pezzo non lo devono cantare. Poi l'appetito viene mangiando, da un pezzo abbiamo fatto un quarto d'ora. E lì è scattata una cosa che non ci aspettavamo, cioè la reazione del pubblico. Perché lì abbiamo annunciato che avremmo voluto fare un concerto, visto che ci ritrovavamo a suonare, abbiamo detto, facciamo un concerto. E nella follia più totale, per quanto riguarda noi, perché noi siamo dei ragazzi, veramente dei ragazzi provinciali e modesti, abbiamo detto, ma siete matti a San Siro? L'abbiamo fatto nel 96, ma con tutta la promozione, l'ultima tournette, tutto quanto, adesso tornare a San Siro? Beh, in 24 ore abbiamo venduto 30.000 biglietti ed è andato esaurito in una settimana. Da lì è nato l'Olimpico, da lì sono nate tre arene, perché due non bastavano, abbiamo giunto la terza l'altro giorno, sono nati quattro palasporti, e adesso si parla di qualche altra data. Ed è un atto d'amore da parte del pubblico al quale non potevamo dire di no. L'abbiamo chiamata! L'abbiamo chiamata Amici per sempre, la tournée, che è anche un nostro pezzo, perché non è soltanto un titolo della canzone, ma è veramente una maniera di interpretare la vita e di interpretare, visto che tu sei un musicista, la band. Noi siamo stati, non a caso, per 50 anni la band di riferimento in Italia, perché noi eravamo veramente, avevamo realmente lo spirito della band, lo spirito del famoso tutti per uno, in cui ognuno lavorava e interveniva quando l'altro rimaneva un po' indietro ad aiutarlo. Ed è nata, oltre che un'amicizia, una complicità di intenti, che ci ha portato adesso a essere di nuovo primi in classifica, come venditori di biglietti, e sono sette anni che non facciamo nulla, che non scriviamo un disco e tutto quanto. Dietro di noi c'è il gota della musica italiana, che ha fatto nel frattempo un sacco di prodotti bellissimi, che però non sta vendendo quanto vendiamo noi. Ma sai perché? Perché io credo che in un mondo come questo, e voi ne avete il termometro perfetto in mano, in un mondo come questo dove tutto non cambia, dove tutto finisce. Cioè noi scendiamo sotto casa e non troviamo più il negozio nel quale eravamo abituati, nel quale c'era quel signore che ci consigliava le cose bene. Non parliamo della politica, che cambia ogni due per tre, e anche quando rimane all'interno delle correnti ci sono dei cambiamenti di bandiere incredibili. Per cui, cioè in un'età e in un tempo come questo, in cui non c'è nulla di sicuro, non c'è nulla di certo, non c'è nulla che ti dia la garanzia di durare, i PUR rappresentano una certezza. I PUR sono una cosa forse semplice, forse popolare, però sicura. Non abbiamo mai dato fregature e non ne daremo. Siamo quella cosa lì e la gente ha voglia di trovare quella cosa lì e non cose che magari vengono raccontate in un certo modo e poi portano a delle delusioni. Noi siamo una certezza, siamo noi, siamo italiani, siamo semplici. Arriviamo al cuore, raccontiamo le storie della gente perché noi siamo la gente. Io vado al supermercato dove lei si lamenta che sente la nostra canzone, ci vado anch'io col carrello con lei. Perché mi piace essere al centro della mia vita, non essere uno spettatore. Ecco, forse per quello che i PUR funzionano. Ilaria, Ilaria, non so se è possibile, ma proprio su questa storia della certezza possiamo chiedere a Red di accennare il ritornello di Uomini Soli. Ma sai, accennare qui è dura senza musica. E' impossibile. E' realmente impossibile perché... Ti verremo ad ascoltare allora. Vi aspetto, vi aspetto, dai. Così lo cantiamo insieme. Red, grazie. Grazie per questi minuti passati insieme. Basta, ti cacciamo. Io stavo benissimo. Siamo cattivissimi. Allora, a nome di tutti veramente grazie di cuore per quello che ci hai regalato, per quello che ci regalerai. Io, in maniera forse un po' insolita, chiuderei con un abbraccio. Che è l'abbraccio di tutti noi per dirti grazie per tutto quello che hai fatto. Grazie. Grazie. E anche il mio abbraccio a tutti voi perché è stata una bellissima esperienza che spero di poter ripetere. Ahimè, noi dobbiamo partire adesso. Dobbiamo andare via perché abbiamo un po' di cose da fare. Però, però, ritornerò l'anno prossimo perché è estremamente interessante quello che ho sentito stamattina. Grazie ancora. Grazie. Grazie.